buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 28 settembre 2023 il santo del giorno il santo del giorno vediamo subito sulla grafica e san venceslao san venceslao visse nel decimo secolo era re di boemia complesse complesse alle sue vicende familiari caratterizzato da contrasti contro i cristiani c'era ancora una lotta tra chi aveva questa fede chi non l'aveva anzi c'erano delle persecuzioni fede che anche lui venceslao aveva abbracciata e fu ucciso pensate a tradimento dalla madre mentre si recava a pregare una madre piuttosto di temperamento deciso violento e di animo certo non buono un animo perverso questo è san venceslao vediamo ora le previsioni del tempo ecco la grafica sulle marche alta pressione alta pressione è tornata dopo le nubi dei giorni scorsi sole prevalente su tutto il territorio è un clima frizzante quello che è subentrato al caldo pressivo dei giorni precedenti le temperature massime arrivano fino a 26 27 gradi le minime 18 gradi le minimi stanno abbassando leggermente ma siamo nelle ultime ore della notte i venti a tratti ispireranno moderati da nord nord est mentre il mare è leggermente mosso questa è un po' la situazione del tempo di oggi ma guardate che bella grafica c'è il sole dappertutto quindi una bella giornata questa non è troppo caldo né troppo freddo quindi una bella giornata autunnale ed ora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano dove vediamo una bella notizia waterfront ristrutturazione al via si è parlato tanto di progetti di rendering ora si parla sempre più insistentemente di cantieri si stanno allestendo i cantieri che vuol dire che i lavori cominciano ad eseguirsi lavori che per quanto riguarda il waterfront di torrette sono già iniziati perché l'aset ha cominciato a realizzare i sottoservizi per quanto riguarda le fogne l'acquedotto insomma dopo che verranno realizzate tutti gli impianti sottoterra si comincerà in superficie è il waterfront scusate la voce è il waterfront per quanto riguarda torrette si concentrerà soprattutto sui giardini tonucci il grande piazzale dove attualmente c'è il parcheggio che è il cuore di torrette e poi anche su via stelle di mare che verrà inibita al traffico sarà una via pedonale su cui sarà possibile fare una bella passeggiata ebbene l'avvio dei lavori è stato presentato l'altra sera a torrette in una riunione con i residenti che si è svolta nella sala della chiesa di san paolo apostolo dal sindaco massimo seri e dagli assessori barbara brunori ai lavori pubblici e etienne lucarelli per quanto riguarda il turismo è stato rispiegato il progetto è stato detto qual è il cronoprogramma dei lavori i lavori dovrebbero essere conclusi nel ma entro il maggio quindi prima della prossima stagione turistica quando torrette avrà una nuova immagine ebbene dopo il fallimento di fantasy world e della lottizzazione torroni finalmente un'opera che dovrebbe diciamo ancora il condizionale venire alla luce in questa frazione che ha una spiccata vocazione turistica e veniamo alle altre notizie una notizia di cronaca annunciata a fondo pagina sul corriere adriatico un incidente stradale schianto alla rotatoria di via trave grave un motociclista è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza il fatto avvenuto ieri alle 8 e 20 appunto nella rotatoria tra via della trave e via aldomoro e via frusaglia siamo non molto lontano dalla zona sportiva della trave secondo i rilievi della polizia locale sono entrati in collisione una ford fiesta condotta da una donna di 36 anni di fano è uno scoterone 150 con in sella una donna di 66 anni originaria di pesaro e residente a fano ebbene ovviamente la peggio è toccata a questa centaura la donna che era sullo scoterone sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 il cui personale ha constatato le gravi condizioni appunto della infortunata e ha chiesto l'intervento dell'eli soccorso vediamo ora l'altro articolo di apertura sul corriere adriatico che riguarda un problema che si è prolungato a lungo a fano si tratta dei lavori per il contenimento dell'acqua piovana che allagava e forse ancora allaga piazzale a mendola è un problema che è stato sollevato anche nell'ultima seduta del consiglio comunale dal capogruppo della lega gianluca ilari lavori pagati e mai eseguiti ha detto l'esponente dell'opposizione così il problema non è risolto ilari critica dopo la conferma da parte di brunori di opere difformi dal progetto sono costati 800 mila euro e cinque anni non sono bastati a realizzare questo impianto impianto che funziona a fasi alterne secondo i tecnici è un piano è un sistema di smaltimento delle acque che svolge la sua funzione però insomma gli allargamenti specialmente quando ci sono le grosse bombe d'acqua ancora si verificano si verificano per pochi pochi poco tempo insomma non è che rimane lì giorno e giorni l'acqua perché poi lentamente defluisce e viene condotta nel porto canale attraverso via spontini che appunto poi giunge verso il canale vediamo anche questo appuntamento un appuntamento importante perché questa settimana si svolge la settimana regionale africana in modo particolare a Fano organizzata dall'associazione l'Africa Chiama ebbene l'Africa Chiama annuncia l'intervento di un personaggio eccezionale qual è Don Ciotti Don Luigi Ciotti fondatore del gruppo Abele e dell'associazione libera sarà oggi a Fano ospite dell'ONG fanese interverrà alle ore 18 nella sala del gonfalone in via Rinalducci parlerà sul tema liberi di scegliere se migrare o restare ovviamente il tema dell'immigrazione è un tema importante che Chiama l'Africa sviluppa durante la settimana africana il tema dell'immigrazione emergente ci dovrebbe essere un maggiore spirito di accoglienza purtroppo insomma su questo tema gli italiani si dividono ed ora vediamo altre notizie passiamo a una notizia di cronaca che sempre riguarda Fano downtown scoperti tre furti restituiti denaro bici e borse è una situazione è una il risultato di un'indagine che ha compiuto il commissariato di Fano è stato scoperto il ladro di una bici elettrica di una bici elettrica che è stata rubata all'interno di una abitazione poi abbiamo tre borse griffate il cui autore del furto è stato posto agli arresti domiciliari e poi abbiamo un problema di droga sono questi tre aspetti che sono stati chiariti sviluppati dalla polizia e che costituiscono l'apertura sul resto del carlino sulla pagina di Fano lo vediamo qui in questa in questa pagina se riesco a trovarla eccola qua eccola qua dalla bici elettrica alle borse griffate la polizia castiga tre ladruccoli le indagini compiute anche grazie all'aiuto delle telecamere hanno permesso di risalire ai responsabili dei furti era stato anche sottratto uno zainetto a un neturbino che stava facendo il giro con il furgoncino dell'aset allora chiariamo bene quello che è accaduto è accaduto che il primo episodio si riferisce al furto di una bici elettrica sottratta ai proprietari che l'avevano parcheggiata nel giardino di casa in via Oberdan in centro storico qui si era introdotto un eroinomane di 36 anni domiciliato a Fano ma di fatto senza fissa dimora l'aveva poi ceduta a un pesarese c'era stato un altro passaggio ma il commissariato di Fano è riuscito ad individuare appunto tutti questi passaggi e a restituire il maltolto ai proprietari secondo episodio riguarda il furto di sette borse griffate sottratte sottratte in un camper il cui furto era stato denunciato da un residente di via Nazario Sauro infine il terzo episodio è un episodio che riguarda il neturbino dell'aset il quale aveva uno zainetto nel suo camioncino uno zainetto sottratto con destrezza da una mano lesta bene di come dicevo tutto 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 quanto è stato sviluppato e individuato per quanto riguarda i furti dagli agenti del commissariato di Fano ed ora torniamo al Corriere Adriatico abbiamo una presa di posizione della Lega in modo particolare dal consigliere comunale e regionale Luca Serfilippi per quanto riguarda la situazione dell'ordine pubblico a Fano una situazione che qualche volta risulta viene a galla in maniera emergente per quanto riguarda la frequentazione di alcuni quartieri della città ma anche del centro storico di persone problematiche di ubriachi di persone rissose e anche di spacciatori di droga la Lega dice basta il buonismo ora occorrono misure concrete i punti focali sono quelli di piazza Amiani i giardini nei pressi della Mediateca Montanari e dove è un luogo dove si trova un luogo di ritrovo di persone un po' sbalestrate e poi abbiamo anche altri altri punti come i giardini antistanti la Rocca Malatestiana alcuni quartieri come Poderino San Lanzaro dove ultimamente sono venute alla luce imprese di alcune baby gang anche la piazza 20 settembre sotto nella zona retrostante i portici del teatro della fortuna sono un po' i giardini del pincio ovviamente sono questi i luoghi posti all'attenzione delle degli agenti della polizia fanese e quindi Ser Filippi chiede provvedimenti più incisivi controlli più pressanti per evitare poi che la situazione trascenda. Contributi e tassa di soggiorno un protocollo contro i forbetti è un protocollo sottoscritto a Mondolfo dal sindaco Barbieri con il colonnello Brucato comandante appunto della guardia di finanza è un protocollo che pone la guardia di finanza in uno stato di vigilanza e di controllo nei coloro che aspirano a delle providenze di carattere sociale per esempio le dichiarazioni dell'isee se non sono veritiere appunto vengono poste al vaglio della guardia di finanza e la quale poi verifica controlla se quanto dichiarato appunto dalle famiglie che aspirano ad un contributo è tutto regolare oppure c'è qualcosa che non va. A terre roveresche la regione autorizza il ripristino del lago si tratta dell'invaso Bergamo a Barchi che costituirà una notevole risorsa per l'irrigazione dei campi per l'approvvigionamento idrico nei casi di siccità e il lago era stato prosciugato ora invece verrà riempito anche grazie all'autorizzazione della regione. E veniamo a Senigallia. A Senigallia si fanno prove di turismo anche d'inverno per prolungare la stagione e consentire alle strutture ricettive di lavorare anche durante la brutta stagione. Gli alberghi saranno aperti anche a capodanno. Vengono a questo proposito messe a disposizione delle risorse extra dalla regione per finanziare eventi natalizi. Prima Panem Nostrum, una bella manifestazione che si svolge nel mese di novembre ed è una bella vetrina di Senigallia e poi abbiamo la presenza di tour operator che provengono in modo particolare dagli Stati Uniti ma purtroppo salta il bicicross. Prove tecniche dunque di destagionalizzazione. Non mancheranno certo iniziative tra autunno e l'inverno grazie anche al contributo della regione che ha concesso fondi extra come annunciato dal sindaco Olivetti in Consiglio Comunale. E vediamo anche l'apertura sulla pagina di Pesaro, saltando le prime pagine della regione, dedicata al Conservatorio Rossini. In questo caso cambia la musica, cambia la musica perché il palazzo verrà sottoposto ad una incisiva azione di restyling. Il cantiere dovrebbe partire a novembre con l'inizio dell'anno accademico per gli studenti. Poco meno di un mese per definire la riorganizzazione di aule e didattica. Ovviamente i lavori incideranno anche sulla esecuzione delle lezioni. A novembre dunque c'è l'inizio del cantiere per la messa in sicurezza e il recupero di Palazzo Olivieri che ospita il Conservatorio. È previsto il recupero e la messa in sicurezza di 2.000 metri quadri al piano terra. Alcune aule e i pianoforti a coda saranno trasferiti nello stabile di Viale Trieste dove era l'ex liceo Mamiani. È previsto anche un sistema di insonorizzazione perché all'interno del palazzo che ospita il Conservatorio si fa musica e quindi ovviamente le persone che abitano vicino, passanti eccetera, possono essere disturbati anche se la musica certamente non disturba perché quando poi si parla di Rossini ma ovviamente al Conservatorio si parla anche di tanti altri compositori non è una cosa che dà fastidio. E poi si parla anche di Palazzo Almerici oggi sui giornali. Ebbene per il restauro una sola offerta per il recupero da 4 milioni di euro. Verranno sistemati alloggi, uffici e archivio e saranno realizzati nella seconda corte di Palazzo. Guardate il complesso di Palazzo Almerici, uno stabile del XVIII secolo che ha una grande rilevanza culturale. Il Corriere Adriatico dedica la pagina 8 all'incendio che si è sviluppato ieri nel capannone della Scavolini. Un capannone che era oggetto di interventi di ristrutturazione, di restauro, di consolidamento, c'erano degli operai del tetto che usavano il catrame per impermeabilizzare la copertura. A un certo punto è scoppiato l'incendio, sono stati divorati 400 metri quadri di copertura. Al lavoro l'incendio ha richiesto l'intervento di 20 vigili del fuoco. Per fortuna non si sono verificati danni ai mobili e ai macchinari, ma per precauzione sono state evacuate 609 persone, un'operazione importante che è stato fatto per garantire la sicurezza di tutte le persone. Il tutto si è verificato ieri alle 15 e 15, quando una colonna di fumo grigio molto molto densa si è elevata del cielo appunto dal tetto del capannone della Scavolini a chiusa di Ginestretto. È stato un lavoro anche complicato dei vigili per spegnere le fiamme che alla fine però sono state spente dopo due ore di lavoro. In aula il video dell'omicidio bruzzese è in corso il processo per il palo che l'uomo che ha fatto la funzione di palo nel corso di questo delitto organizzato dalla mafia. Il giudice ha dato il consenso per acquisire le testimonianze della figlia che purtroppo quando ha parlato era in grande stato di shock, poi toccherà anche alla madre. Ebbene ieri in tribunale sono sfilate le immagini dell'omicidio del momento in cui Marcello Bruzzese rientra in casa in auto il giorno di Natale e viene crivellato di colpi. Poi abbiamo la voce concitata di una passante che dà l'allarme. Ieri nuova udienza davanti alla corte d'assise a Pesaro. Vediamo anche poi anche sul resto del Carlino come viene sviluppata questa notizia, una notizia ovviamente che viene aggiornata costantemente dai giornali per la rilevanza, per la rilevanza che è emersa nei fatti di cronaca. Omicidio bruzzese corsi da lui, era morto. Questo è una testimonianza. Processo a Rocco Versace. Rocco Versace è il palo appunto che faceva parte di questa azione delittuosa organizzata dalla malavita. In aula il racconto della nipote della vittima. Zia Caterina ci disse di aver sentito degli spari io andai subito in via Bovio dove è avvenuto il delitto. Ebbene la voce di Antonio Alessi, nipote di Marcello Bruzzese, arriva dai monitor dell'aula di corte d'assise in tribunale a Pesaro. È stato ripreso di spalle, ovviamente è circondato da tutto un sistema di sicurezza perché la malavita può continuare a essere vendicativa. E continuiamo ora la nostra rassegna sul Corriere Adriatico. Vediamo che a Catabrighe sono in arrivo altre antenne ma anche nel colle San Bartolo e la gente ovviamente protesta, non smette di scendere sul sentiero di guerra. Vediamo anche la pagina di Urbino dove si parla del massimo riconoscimento che dà l'università a coloro che si sono distinti appunto in diversi ambiti. Si tratta dell'Urbino Award 2023. È stato assegnato a Ellen Nakashima, una giornalista del Washington Post. La tecnologia deve essere indirizzata. Prendiamo come esempio Federico, è stato un po' il testo della conferenza che ha svolto la giornalista ieri a Urbino. La giornalista ha richiamato la storia del Ducato di Montefeltro. Ebbene un Alexio Magistralis molto interessante, molto accattivante devo dire, in quanto la giornalista ha voluto pronunciare in italiano sottolineando le analogie tra il Ducato di Urbino condotto da Federico e Battista Sforza, la moglie di Federico, e il rapporto tra tecnologia e umanità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Federico era un leader militare, la sua fortuna l'ha conosciuta con l'uso delle armi, ma era anche un uomo di cultura, un uomo che insieme alla moglie non disdegnava svolgere attività di carattere culturali e sociali. È lo stesso modo oggi che bisogna investire nella tecnologia per fare avanzare il progresso, ma per non dimenticare il senso di giustizia e moralità, così come ha appunto detto Ellen Nakashima, una ragazza che accosta la tecnologia alla cultura e alla moralità. Ed ora diamo un'occhiata al resto delle Carlino, dove abbiamo visto la notizia di cronaca dedicata appunto all'esito di tre indagini fatte dal commissariato. Vediamo poi quello che ancora oltre al waterfront di Torrette sviluppa l'amministrazione comunale. La prossima settimana partono i lavori anche all'ex Agip. L'annuncio è stato dato dall'assessora Brunori. La prossima settimana si partirà dai sottoservizi, poi toccherà ai pavimenti. Una città da gustare che profuma di caffè, oggi la rocca malatestiana, dieci baristi sceglieranno la migliore miscela per la preparazione della moretta. È uno degli avvenimenti del programma della città da gustare che si svolge in due trans questa settimana e la prossima di ottobre. Rinasce il lago di Barchi, via libera della regione, svotato nel 1985, ne abbiamo parlato, verrà nuovamente riempito. Vediamo anche una notizia di Urbino che è simile a quella che è pubblicata dal Corriere. Anche il resto del Carlino interviene sull'Urbino Howard a Palazzo Ducale, il premio a Ele Nakashima. E poi vediamo come ad Urbino una fermata del bus è resa più sicura per quanto riguarda lavori effettuati in via giro dei debitori. L'intervento garantisce salita e discesa dei mezzi pubblici più sicura, in modo particolare per gli studenti. E poi c'è una nuova isola a metà del rettilineo, in modo che i pedoni possano evitare di essere investiti. Concludiamo la nostra rassegna stampa con Cagli, nuovi parcheggi che caos, eccolo qua il titolo, creano tanti disagi a tutti. La protesta di mamme per portare i figli a scuola, dei medici, degli artigiani, dei dipendenti, degli studi professionali. A chi giova tutto ciò è stato detto per quanto riguarda questo nuovo servizio che non soddisfa la popolazione. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie.